Sono oltre 1500, 1571 per la precisione, come comunicato dalla società, i tifosi che, dalla fredda Norvegia, sono volati in una Roma baciata dal caldo sole di primavera per sostenere il vodo, Glint nella sfida di ritorno di Conference League contro la Roma. Un po' turisti un po' supporters, i fan del club giallonero si sono riversati per le vie della capitale facendo partire anche i primi scottò agli avversari giallorossi. Come quello apparso sulla maglia di un signore, immortalato nei pressi un famoso pub del quartiere Monti con indosso una maglia che parla da sola. Mourinho 61, si legge sulle sue spalle, in riferimento al risultato di ottobre maturato nel corso della prima sfida tra i due club. di ottobre maturato nel corso della scottò agli avversari giallorossi. Come fare un po' di ottobre maturato nel corso della scottò agli avversari giallorossi. Come